Finale campionato italiano di padel Qui esco all'Aurelia, via degli Aldobrandeschi 115 Questa è la finale del campionato italiano di padel Terzo e quarto posto e primo e secondo posto Maschile e femmine E' lo sport resort qui di via degli Aldobrandeschi 115 Il padel è uno sport tipo mini tennis Che si gioca anche contro i vetri Si sbatte la palla contro i vetri Con le racchette E' quello insomma Il padel è uno sport Il padel è uno sport